La tecnica che usa Belpietro è una sola, una tecnica che non lascia scampo a mistificazioni, una tecnica che si basa su un fattore principale, la verità. Si è parlato in questi giorni Gaza isolata, Gaza una prigione a cielo aperto, sì, sicuramente è una situazione drammatica, ma è altrettanto vero che in questi anni Gaza è stata apertissima, lo prova il fatto che non sarebbero potute arrivare tutte le armi che sono arrivate, cioè ci sono dei paesi arabi che hanno finanziato il terrorismo per una serie di ragioni e l'errore straordinario di Israele non è stato neanche quello di non capire che c'era questo, ma di fidarsi pensando che la soluzione di tutto questo problema dopo tanti anni fosse trovare accordi con i vari paesi arabi. Ma i paesi arabi, mentre da un lato dicevano una cosa, dall'altro continuavano a dare soldi ai movimenti terroristici, io ricordo l'invasione del 2009, quando un collega valente come Fausto Biloslavo, io all'epoca ero direttore di Panorama, lo mandai a Gaza e siccome c'erano stati degli attentati, erano stati lanciati dei missili contro Tel Aviv, contro scurate Israele e a un certo punto l'esercito entrò, l'esercito israeliano entrò in quella zona e furono lanciati anche qui, fu bombardato, furono colpiti degli ospedali, furono colpiti delle scuole. Beh, in sostanza, quando Biloslavo fece quell'inchiesta documentata, con nomi, cognomi, testimonianze, provò il fatto che lanciavano questi criminali i missili dagli ospedali affinché venisse colpito l'ospedale, per poter esibire al mondo, guardate quanti sono cattivi gli israeliani che colpiscono gli ospedali, guardate che colpiscono la scuola dove avevano nascosto ovviamente le munizioni. Questa è una guerra veramente agghiacciante, è una guerra condotta sulla pelle delle persone, dei bambini, delle famiglie e questo è il dramma. Quello che sta succedendo ora è la riprova di quanto sia criminale tutto ciò.